Che succede? Tutti bene? Li hanno chiamati. Dicono che ci sono problemi in casa. Ok. Dovete dare un'occhiata? Un po' umido per allenarsi, non trova? Non devono fare i compiti? Li fanno i compiti. Tanda è la prima della classe. Lynn e Isha lo stesso. Non mi offendo se mi dice che siamo troppo duri con loro, perché lo siamo! Il nostro compito è tenerle lontane dalla strada. Le volete controllare? Controlliamole! Abbiamo futuri medici, avvocati, più un paio di stelle del tennis in questa casa. Le probabilità di raggiungere quel tipo di successo di cui lei sta parlando sono molto, molto scarse. Commetto uno sbaglio, ma glielo concedo. Le guardi giocare. D'accordo. Come vi chiamate? Io Venus. Io Serena. Allora, che ne dice? Ho scritto un programma di 78 pagine per la loro carriera prima che nascessero. Sì, bella! Sì! Sì! Grandi! Perché non ne ho sentito parlare? Sono di Compton. Tutto a posto. Non sono abituati a vedere gente bella come noi. È nervosa. Fa un passo avanti. Forse dovrebbe fare più passi avanti. Magari è meglio. Tu potresti avere il prossimo Michael Jordan. Oh no, fratello. Io ho i prossimi due. Il prossimo passo che stai per fare non rappresenterà solo te. Rappresenterà ogni ragazzina nera sulla Terra. Giuro che non ti deluderò. Come potresti? Questo mondo non ha mai avuto rispetto per Richard Williams. Ma rispetterà voi. Uscirai là fuori a testa alta. Sei una campionessa. E tutto il mondo lo sa. La creatura più pericolosa di tutta la Terra è una donna che sa pensare. Sì, papà. Nulla le è impossibile. Li farai vedere chi sei? Sì! Venus e Serena scuoteranno il mondo. Venus Williams, chi è il tuo migliore amico? Tu, papà? Serena Williams, chi è il tuo migliore amico? Venus, poi tu, poi tu dopo Venus. Non ci posso credere. Sapevate che la vera scuola Top Gun impone una multa di 5 dollari a chiunque dello staff nomini il film con Tom Cruise? Parlando invece proprio del film, è venuto fuori che Val Kilmer non avrebbe voluto recitarci, ma fu costretto per obblighi contrattuali. È diventato poi uno dei suoi ruoli più iconici. Grazie per essere stati con noi. Per altre curiosità e video potete cliccare qui a fianco oppure in info box trovate il link per seguirci su TikTok. Ciao da Valeria.